Buon salve people benvenuti sul mio canale io sono Ru Walker ed eccoci oggi a vedere la Closed Alpha alla quale sono stato invitato di Multiversus un titolo fresco fresco che uscirà a dire la verità più avanti ecco come potete vedere ci sono già dei personaggi abbastanza iconici del mondo dei dei cartoni animati di Warner Bros ma anche dei suoi brand in una maniera più estesa in senso più largo ovviamente fra supereroi e quant'altro quindi andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta facciamo subito il tutorial è un brawler praticamente verrà verrà commercializzato diciamo in formato free to play quindi potrete giocarci tutti da qualsiasi piattaforma e io adesso andrò a farvi vedere un po il tutorial andiamo a vedere sblocchiamo Ubuntu woman eccoci qua ah no siamo shaggy di scubidoo quindi molto bene alcuni ovviamente di questi di questi personaggi potrei non conoscerli dipende quanto sono recenti ti do il benvenuto impariamo le basi ok ricevuto muoviti a destra muoviti a sinistra su con il salto su si tira su abbassati si tira giù impressionante attenzione salto 1 tieni premuto a più salto alto perfetto double jump perfetto tutto molto semplice schivate ok come possiamo schivare cose con la b questa schivata neutra schivata destra schivata sinistra molto bene schivate aeree possiamo schivare anche in aria quindi a direzione più b ok questa schivata di qui ok e questa quella neutrale perfetto molto bene gli attacchi sono la base del tuo arsenale attacco x attacco neutrale ok laterale più x su più x e ok questo a questo su più x e giù perfetto abilità speciali hanno anche le super ovviamente diventiamo un super saiyan la miseria siamo dei super saiyan perfetto ok abbiamo mangiato un panino scusi ok perfetto quindi in combinazione non in contemporanea mosse aeree vediamo un po ok questo ok ok perfetto stessa cosa benissimo tacco leggero tacco pesante combattimento lanciare foglie avversari ok come perfetto arrivederci come smash bros sostanzialmente ok vediamo butta wonder woman ok 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 ovviamente più è più indebolita più venne spedita lontano ci sono delle combo da mettere in pratica ok caricare gli attacchi possiamo anche caricarli bene tener premuto x ok vediamo perfetto molto bene easy morbido abilità speciali uniche ok shaggy può caricarsi con ok aduken no esegui un'abilità speciale furiosa ok ok raccoglie un sandwich con l'attacco speciale speciale di shaggy ok preso il sandwich e con questo lo lanciamo perfetto ok lavoro di squadra tutti i personaggi sono stati creati pensando al lavoro di squadra per esempio l'attacco speciale basso di wonder woman può proteggere gli attacchi dei vicini ok quindi ho giù più y quindi questa è la frustata ci sta facendo vedere banalmente la carrellata ok neutro più y affronta il tuo alleato usa le redini per attaccarlo a rain dog e tira le redini di rain dog quindi fondamentalmente è così perfetto lo recuperiamo bene ok ok perfetto ups cannata troppo lontano scusate non ce la posso fare aspetta perché c'ha un tempo di ricarica sto coso ok ok gli alleati assicurati delle redini di rain dog possono giocare in maniera più più difensiva ok perfetto salta dalla sporgenza per affrontare wonder woman ah ok posso saltare quindi non ce la posso fare ok perfetto puoi scendere da alcune piattaforme giù più a ah no su dalla piattaforma ok da qui ok perfetto tecniche aeree qui ovviamente ci insegnerà le combo migliori vediamo vediamo il jump funziona solo due volte giustamente ok mancato mettiamo la prova ciò che ha preso in combattimento benissimo easy bene abbiamo sbloccato wonder woman molto bene con la sua chioma fluente e lo scudo alleati salvati quando abbiamo un buon apparato ok poi possiamo possare ai tutorial avanzati o al menu principale quindi diamo ai tutorial avanzati dobbiamo fare per forza quelli ok abbiamo visto a qui ci sono tutta una serie di di abilità ma proviamo subito a farne una ci sono molti comandi opzioni nell'interfaccia utente e facciamo l'uso consigliato non voglio andare troppo nel dettaglio vediamo subito vediamo subito facciamo un 1v1 sperando che il matchmaking sia giustamente dobbiamo metterci in europa vediamo se c'è qualcuno dei nostri colleghi e intanto andiamo beh io direi possiamo prendere ah cavoli c'è superman è bloccato ovviamente gli eroi di sì chiaramente sono qui e tunes tom e jerry questa è vilma taz uh bellissimo sceglierò taz ok confermiamo andiamo in matchmaking direttamente match trovato bene uh siamo contro harley queen bene io non ho la minima idea di come si faccia a usare taz allora equipaggiamento automatico sblocca il tuo primo vantaggio raggiungendo il livello 2 di maestria con questo personaggio ok andiamo siamo contro briconia qualcuno ha fatto cose che io in questo momento non posso fare quindi ho come idea che harley queen mi farà tanta bua vediamo se è cafone a sufficienza per poter essere così fruito buttiamoci tuffiamoci il primo che lancia fuori dal ring due volte vince perfetto ciao ops quella attenzione attenzione ce la stiamo giocando attenzione ciao vediamo se no 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 ok no mi ha debaffato vai vai che non ce la possiamo fare vediamo se siamo in zona oh molto bene match point avanti ma no me l'ero divorata vediamo se riesco a ridivorarla un'altra volta io non vengo sulle scatole vediamo se vediamo se e se la vince molto bene tas è sempre una garanzia molto bene ah vince il board walker grazie mi regalano i fiori che ovviamente mangio rematch voglia daje salutiamo salutiamo briconia inizio del round forza ah ok si può ah possiamo cambiare cambiamo prendiamo un altro io prenderei tom quasi quasi ovviamente jerry ah tom e jerry ci sono entrambi ok perfetto però batman cavoli eh sono bloccati sono bloccati jake di adventure time ok ok dai andiamo andiamo con wonder woman dai lanci fuori dal ring qui ci sono tutte oh no stemma stark fantastico ebbene si ormai lo sapete ragazzi anche io sono un fan del trono di spada ovviamente ok lei continua lui o lei continua con harley queen quindi proseguiamo 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 ovviamente voi vedrete questo video così è un end zone ma ci giocherò per un determinato periodo lo vedrete a partire da giovedì perché sarà la data dentro il quale ovviamente posso mostrarlo però la close d'alfa è già in corso in corso bene vai 1v1 holy smokes e wonder woman sono io 10 la combo di wonder woman è abbastanza tosta attenzione no vieni giù ops vediamo vediamo no 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 vediamola nose nose e continuo a infliggere danno più possibile ok fuori 1 dai bene 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 nose nose molto bene scendi vai eh lei sta piazzando pacchetti esplosivi dappertutto io ovviamente li sto cercando di evitarli no ho evitato no 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 vediamo e vediamo attenzione ho fatto un qualcosa di bellissimo e ormai ci sei amica attenzione ci siamo quasi vittoria signori anche wonder woman è particolarmente bello il combat mi piace è bello bello ignorante bello caffone intanto noi saltiamo la corda giustamente sorry mate dai un toast posso dargli un toast diamoglielo il toast toast perfetto non so se l'ho premiato o no però vabbè ben 60 163 60 monete d'oro che ovviamente serviranno per sbloccare probabilmente i prossimi eroi infatti altri punti molto bene abbiamo guadagnato tutte cose e sbloccato nuova ricompensa vantaggio difese pelle criptoniana potenzialmente dei danni orizzontali a questi sono i vantaggi i famosi vantaggi che diceva prima ora dobbiamo anche controllare le impostazioni tra l'altro c'è anche un pass battaglia stagionale chiaramente dove possiamo sbloccare skin eccetera eccetera quindi diamo un'occhiata anche alle impostazioni in modo da riscattare anche le ultime monete vediamo ok dovremmo averlo fatto perfetto molto bene poi le missioni iniziali le abbiamo fatte questa dovrebbe essere la collezione con tutti i nostri personaggi Harley Quinn è disponibile Batman si può sbloccare vediamo sblocca 2000 ne serve servono 2k e ciascun personaggio ha anche delle emot chiaramente con dei taunt vediamo se posso equipaggiare qualcosa su Wonder Woman vediamo no annunciatori ok questi sono gli stemmi questi sono i colori degli standardi chiaramente qui abbiamo delle emoticon abbiamo cose chiaramente estetiche ecco i vantaggi possiamo meno 6% di danni se anche il tuo alleato seleziona questo vantaggio quindi vabbè questo lo mettiamo e il secondo slot lo mettiamo lo mettiamo facciamo equipaggiamento automatico sì perfetto giustamente posso usarne solo alcuni con determinati personaggi credo io ok partiamo ok match trovato si riparte per un secondo match godank il signor godank che ha preso fin di adventure time quindi andiamo con equipaggiamento automatico ci siamo bene chissà qual è l'abilità del nostro amico non ne ha ancora nessuna quindi aspettiamo noi abbiamo anche il mystery van come icona il mystery van di scubidoo cose che mi ricordo dalla mia infanzia bene partiamo qui c'è wonder woman che flexa bruttissimo fa proprio brutto si parte signori le botte vediamo io ho come ho come idea che le buscherò no no le sta prendendo malamente non capisco se lo sto facendo di proposito oppure no ciao vediamo no brutto tempo brutto l'ho scelto del tempo ai 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 qui mi sta picchiando il signore che sta recuperando anche delle monete sembrano essere delle monete magiche non ho idea ops vediamola attenzione la cosa comincia a farsi piccante vediamo se riusciamo a mandarlo fuori daje e daje nose sul gong e daje e vattene e ci siamo quasi signori no ma ha lanciato una mela che mi ha stordito praticamente e mo e basta mi sta menando ma non come pensavo e mo basta però vediamo se riusciamo eeeh molto bene vittoria wonder woman sembra essere particolarmente violenta adesso proviamo qualche altro eroe vediamo se vuole la rivincita gliela forniamo giustamente può essere in fase ancora una volta daje assolutamente ci mancherebbe la rivincita si concede vediamo ne provo un altro anche se non ne ho provato praticamente nessuno vediamo vediamo tom e jerry dai mago ibrido va modifica vantaggi qui non ne abbiamo neanche uno confermiamo vai con tom e jerry piacerebbe anche sapere quali sono le sue abilità non si può chiedere troppo preparati avanti bene siamo in un livello scevro da elementi ovviamente sono già partite racchette da tennis martelli di ogni tipo come giustamente avviene nella più canonica tradizione no ho lanciato jerry con la canna da pesca ah fantastico jerry gli fa da contraltare praticamente stiamo sparando jerry in giro praticamente vediamo se riesco a sto cercando di usare tutto il palmarès di armi aio aio comincia a impratichirsi il ragazzo abbiamo stoppato proprio all'ultima molto bene continuiamo a sprombattuto con la combo lamer niente niente missili ah mannaggia gli stavo per tirare jerry no 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 dai eh vediamo se mancato clamorosamente attenzione siamo già stiamo giocando vediamo se basterà vediamo e la miseria quanto sta durando sta partita nooo ma eliminato però fra poco anche lui se ne va e basta stemma stark che svolazza nel cielo qui è partita una combo insieme a jerry particolarmente frizzante daie nose nope devo vincerla devo vincerla è questione di onore benissimo vai nope ciao no nope vediamo se dai che è il momento devo andare a riprenderlo credo ah ok se non vai a riprenderlo non fa cose tu hai nose sbagliato il lato molto bene ok proviamo la carica l'unica l'unica credo sia al colpo caricato vediamo se ce la facciamo no mancato è al full micotone questa signori no mancato di pochissimo eh stavolta c'è eh signori un dritto che neanche sampras oh molto bene afferriamo jerry e ce lo mangiamo no abbiamo vinto abbiamo vinto noi ci beviamo il lattino jerry si mangia il formaggino e siamo a posto mentre diamo il toast dai toast altri progressi bonus vittoria bonus livello si guadagnano anche abbastanza in fretta i le monete non so se è per il discorso della alfa ma vediamo altre 100 monete d'oro pioggia di danni un altro bonus quindi bene molto bene perfetto perfetto ok torniamo al menu principale signori questo è multiversus titolo che arriva e anche c'è anche la modalità squadra che vedremo magari in un altro episodio diamoci un attimo da fare a vedere vi invito come sempre a iscrivervi al canale cliccare sulla campanellina insomma fate tutte cose ahia ho sbattuto la mano contro la scrivania detto questo non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers alla prossima grazie a tutti